All'alba del Giro d'Italia un forte abbraccio a tutti gli appassionati di ciclismo che mi hanno manifestato grande affetto lungo le strade del Giro d'Italia. La RAI non mi ha riconfermato per la stagione 2016. Ringrazio tutti i dirigenti della RAI, tutti i direttori di RAI Sport che si sono alternati in questi anni, tutte le maestranze dell'azienda RAI, tutti i giornalisti, un forte abbraccio da Gigi Sgarbozza.